Il film italiano di Francesca Archibugi è in realtà tratto da una pièce scritta da Alexandre de la Patelier e Mathieu Delaporte che è già stato un film diretto dagli stessi autori nel 2012. Il titolo originale era Le Prénom, appunto è il nome, e l'Archibugi ne ha tradotto non solo ovviamente la lingua ma l'intero contesto, la narrazione, la storia. Qui la storia è quella appunto di una famiglia romana in cui uno dei protagonisti, in particolare Paolo, Paolo Pontecorvo, la famiglia è una famiglia nota a Roma con un nome importante che ha una sua rivelanza, tornando a trovare la sorella e i familiari annuncia che appunto il figlio che lui attende dalla sua compagna avrà un nome e questo nome è un nome che getta scompiglio nella famiglia perché è un nome ideologicamente connotato, un nome pesante da sopportare soprattutto per il tipo di cultura che la famiglia condivide e crea, questo annuncio, una serie di reazioni molto forti dal punto di vista emotivo e relazionale in tutta la famiglia contro Paolo ma in realtà attivando da qui una serie di rivendicazioni, manifestazioni di risentimento, dichiarazioni, disvelamenti di segreti impronunciabili, una serie di effetti che sono tipici di un certo genere filmico che ultimamente è capitato piuttosto spesso cioè quello appunto che chiameremmo il dramma della riunione il dramma della riunione di famiglia o fra amici due film recentemente nell'ultimo anno e mezzo hanno preso questo tipo di contesto li ricordo appunto perché sono recenti uno è I segreti di Osage County e l'altro è Ritorno all'Havana due film molto diversi, il secondo molto ben riuscito, molto meno il primo e questo dell'archibugi è di nuovo appunto questo dramma del rincontrarsi e del tirare fuori tutto ciò che di nascosto, di rancoroso e di irrisolto c'è in un gruppo di amici o di familiari vi direi che forse il capolavoro di questo genere se lo vogliamo chiamare così è certamente Il grande freddo di Lawrence Kasdan dell'83 Il film dell'archibugi ha il pregio di voler essere intenso nel essere anche onesto nel disegnare queste relazioni purtroppo a mio modo di vedere non è abbastanza profondo nel cogliere una vera drammaturgia di queste relazioni ci sono rivelazioni abbastanza importanti e gravi ma siccome si vuole tenere un po' il tono leggero non c'è mai veramente uno scavo autentico nella profondità del rancore stesso che vorrebbe essere quello che un po' trascini i protagonisti e anche la recitazione un po' sempre sopra le righe di uno cast stellare Alessandro Gasman, Valeria Golino, Luigi Locascio Rocco Pappaleo e Michele Ramazzotti questi sono ottimi attori ma tutti fatti recitare un po' come in commedia non si riesce a prenderli troppo sul serio c'è troppo poco realismo questo alleggerisce un po' il film ma secondo me gli toglie davvero un po' di peso e manca soprattutto quell'esprit de finesse che nella pièce francese in realtà e appunto nella capacità che hanno i registi francesi di rendere questo riesce a far passare attraverso una leggera ironia la profondità del dramma ecco, questo spunto mi serve per dire che l'altro film di cui voglio parlare invece riesce in questa operazione l'altro film è appunto Gemma Boveri di Anne Fontaine di cui abbiamo visto recentemente Two Mothers e il cast è costituito sostanzialmente soprattutto da due attori molto bravi uno è Fabrice Lucchini lo abbiamo visto in Mollieri in Bicicletta e l'altro è Gemma Arterton il film si basa su una analogia che viene smentita vale a dire Fabrice Lucchini interpreta Martin Jobert che è un ex editor di una casa editrice parigina che cerca pace e tranquillità in Normandia un'operazione destinata al fallimento lo dice lui stesso perché in sette anni di vita in quel luogo in realtà una parte scorre tranquillamente ma poi arriva il dramma e il dramma prende la forma dei vicini di casa inglesi che arrivano vicino alla sua residenza e si chiamano rispettivamente Gemma e Charlie Boveri e la immaginazione letteraria di Jobert non può che andare immediatamente al capolavoro di Flaubert a Emma Boveri, a Madame Boveri che però è un'immagine tragica perché appunto come tutti ricordiamo Emma Boveri va incontro a una serie di disperate ricerche dell'uomo ideale e della vita ideale della soluzione ideale per la sua piena realizzazione femminile scontrandosi con fallimenti su ogni fronte a marito, amanti e storie varie e finisce tragicamente ecco Martin Jobert Lucchini non può che proiettare questa sua immaginazione dei personaggi del romanzo di Flaubert sui suoi reali vicini di casa e quindi vede nella giovane Gemma una nuova Emma Boveri e in realtà ci sono molte analogie ma appunto qui accade la cosa interessante tutta questa proiezione è vissuta da Lucchini con un senso di dramma è resa però dalla regia con un senso di ironia e di leggerezza di autoironia anche sul personaggio Lucchini fa il panettiere è un panettiere intellettuale e questa giovane donna scatena in lui naturalmente sia il risveglio della sensualità sia il terrore per ciò che la sensualità porta con sé e c'è nel suo attendere un esito tragico una partecipazione a creare una condizione tragica e qui c'è secondo me il colpo di genio degli autori e della stessa regista cioè non si rifà Emma Boveri si fa qualcosa di diverso e qui voglio solo sottolineare senza dire nulla sul finale ma voglio sottolineare la differenza che secondo me è intelligente allora mentre Emma Boveri è una tragedia moderna in cui il soggetto Emma stessa procura nel tentativo di realizzare la propria liberazione la propria tragedia e quindi diciamo la colpa è tutta nella sua libertà quello che accade in questo film è seppure raccontato con leggerezza e con ironia un senso più arcaico più antico della tragedia del tragico non c'è nessun colpevole è la situazione che si crea che crea la tragedia e tutti sono coinvolti in questa colpa benché nessuno abbia realmente alcuna colpa e per così dire la scrittura di questo film supera la modernità di Flaubert in direzione di un arcaismo postmoderno cioè si cita Flaubert il citazionismo è una caratteristica tipica del postmoderno ma si rimanda in realtà a un senso del tragico che appunto dice non appartiene davvero alla responsabilità umana come vanno certe cose e su certe cose il pericolo sommo forse è proprio proiettare delle strutture che non appartengono alla realtà quindi il film è scritto molto bene in questo senso e ci sono delle battute fulminanti il finale è geniale e vi invito ad andare a vedere proprio per scoprirlo e il grande protagonista del film è senz'altro Lucchini che sa dare a questo personaggio la leggerezza e l'ingenuità di qualcuno che appunto denso di fantasia intellettuale torna a una vita semplice ma che semplice non è perché la vita di fatto non è mai semplice buona visione e arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti